Questa sostanza è talmente forte che fa smascellare. Tre bande di spacciatori sono state sgominate dalla polizia e dalla guardia di finanza di Chieti. L'operazione antidroga Tallone d'Achille ha portato all'arresto di 25 persone, 5 di queste sono finite in carcere, 12 ai domiciliari e 8 sono sottoposti a obbligo di dimora. A quanto riferiscono gli investigatori, l'individuo in questione componevano tre gruppi distinti che si arricchivano mediante la vendita di stupefacenti. Il primo è stato definito gruppo albanese, in quanto composto per lo più da persone di origine balcanica. Il secondo è il gruppo scalino, che operava in note attività commerciali di Chietiscalo. Il terzo invece è il gruppo pescarese. C'erano state delle segnalazioni che riguardavano questi personaggi che gestivano questi locali della Movida, Teatina, soprattutto di Chietiscalo, che in qualche modo ci davano la sensazione che il denaro che loro guadagnassero non fosse strettamente legato all'attività commerciale da loro esercitata. Dopo un anno e mezzo di indagini, che hanno visto anche l'utilizzo di agenti sotto copertura, provenienti da fuori regione per non essere riconosciuti, in tutto sono stati sequestrati circa 73 mila euro, 32 kg di marijuana, 600 g di cocaina e 360 g di hashish. E quindi siamo riusciti, grazie anche all'apporto, come si diceva prima, degli agenti sotto copertura, che sono serviti proprio, e questo è il momento essenziale dell'indagine, a far decollare l'indagine nel momento in cui aveva dei tempi morti, perché ovviamente non potevamo più utilizzare le nostre battuglie sul territorio per acquisire quelle prove necessarie che poi sarebbero servite per il loro arresto, ma quindi bisognava dare un qualcosa di diverso e soprattutto qualcuno che non fosse del territorio. Le forze di polizia hanno voluto sottolineare come del gruppo scalino facevano parte anche diversi membri della tifosiria organizzata del Chieti Calcio, in particolare un noto capo ultra che, secondo le ricostruzioni, controllava il territorio grazie al ruolo di leader della curva nero-verde. Lo scalo è una periferia degradata, ha affermato il procuratore, e alcuni cittadini la ritengono una zona franca, ma per noi non è così. Noi abbiamo un po' la sensazione che Chieti Scallo sia stata considerata, sia considerata come una zona distaccata della città, ma in generale un po' della cittadinanza, un po' dalle istituzioni, o un po' forse anche dalla stessa imprenditoria. Abbiamo avuto la sensazione che i cittadini di Chieti Scallo si siano sentiti un po' lasciati soli. Però volevo essere chiaro, per noi non è così. Allora, artificialementa di Chieti Scallo e la cittadini di Chieti Scallo Grazie a tutti.